Partire con te perché noi abbiamo lasciato gli applausi perché comunque ieri costituivano un po' parte della notizia anche se c'è da dire che solitamente ci sono sempre grandi corrispondenze di amorosi sensi tra Confindustria e i presidenti del Consiglio però diciamo che c'è stata un'investitura particolarmente forte, forse non ce la ricordavamo dai tempi di Berlusconi, D'Amato ormai lontanissimi che i nostri tre spettatori non ricordano più. Beh, Draghi è un presidente del Consiglio forte, di una fase eccezionale e che porta in dote degli aiuti sostanziosi da parte dell'Europa in più ha un profilo internazionale e una storia che non può non piacere agli industriali però attenzione, io ho l'impressione che ci siano stati molti applausi, perfino questa alzata in piedi, stand in ovation Paragone a baffi, a personaggi proprio ciampi, a De Gasperi Ci sta tutto, però io ho l'impressione che in realtà Draghi chiederà anche molto agli industriali quindi che gli industriali pensino che Draghi è il loro e solo il loro secondo me è un'illusione ma anche loro lo sanno bene perché credo che Draghi poi chiederà che gli investimenti siano diretti in modo giusto che gli imprenditori rinunci da alcune rendite di posizione quindi quando si parla di patto, anche se poi il Presidente del Consiglio non lo vuole definire tale in realtà ci si rivolge a tutte le parti sociali e quindi credo che anche gli imprenditori debbano fare i conti con un governo che sa benissimo quali sono i punti forti ma anche i punti deboli degli interlocutori e su quelli credo che chiederà impegni molto seri perché poi siccome gli aiuti saranno condizionati da parte dell'Europa Draghi e la Germania stanno riscrivendo di fatto i principi del trattato di Maastricht cioè non più austerità ma spesa per sostenere la ripresa ma questo imporrà ancora di più che ci siano investimenti seri e che vengano intaccate alcune rendite che in fondo hanno fatto comodo un po' a tutti anche in Italia quindi potrebbe essere, chiedo al Professor Becchetti, se dà la stessa lettura grazie